Oh, e se non ha dormito a casa e ha detto alla moglie che stava con noi Beh, gli si dice, signora Alicia, è vero Suo marito sta effettivamente con noi Torni pure a dormire tranquillamente Oh, no, 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 no Vieni, vieni Svegli, svegli, svegli No, 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 no! Lello? Ma dove vai a quest'ora? Oddio, che è successo? Lello? Ma dimmi almeno dove vai? Non posso Ma si può sapere che è successo? Ve lo dico domani Mello Se che ci casca ancora, eh, ci casca, ci crede E che altro potrebbe fare, povera martire Con tutto quello che le faccio passare C'hanno solo due cipolle da mangiare per oggi Beh, meglio così Così stanno in pensiero e gli passa anche l'appetito Ha, 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 ha Oh, no, 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 no! Sì, sì! Sì!